Buonasera, ben trovati nella terza edizione del TG6. Iniziamo con la politica. Le cifre segnano la dimensione della scissione. A sinistra in Abruzzo oltre 500 ex sell hanno abbandonato il progetto di sinistra italiana per approdare in articolo 1 democratici e progressisti. La formazione politica di Bersani e Speranza punta a diventare un partito di governo abbandonando posizioni radicali. Alfredo Primante. Noi stiamo dando vita ad un movimento che a livello nazionale si articola in tante posizioni, c'è la sinistra classica tradizionale che io rappresento, ma ci sono anche molte posizioni vicine all'Ulivo. La nostra non è un'operazione di palazzo. Noi facciamo appello ai giovani di prendere in mano questo movimento, di costruire in ogni comune, in ogni realtà, una officina, un circolo, un movimento, un cantiere che dia vita ad un nuovo centro-sinistra. Una critica al PD del Renzismo, ma anche alla scelta radicale di sinistra italiana, che va nella direzione contraria alla ricomposizione della sinistra e alla formazione di un partito di governo. Sono queste le motivazioni che hanno portato alla scissione all'interno dell'ormai defunto SEL. 20 dei 28 delegati abruzzesi intervenuti al congresso fondativo di sinistra italiana a Rimini hanno scelto di aderire al nuovo soggetto politico chiamato Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista, che a livello nazionale conta nomi pesanti come quello dell'ex segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. In Abruzzo ha sottolineato l'ex segretario regionale di SEL, Tommaso Di Febo, il grosso del partito abbandonato sinistra italiana, nomi di spicco come quello del deputato Gianni Melilla e del sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Mario Mazzocca. Quest'ultimo sottolinea la necessità di dialogare con il PD e di confrontarsi con il governo e rassicura sui rapporti di forza all'interno della maggioranza che sostiene il governatore D'Alfonso. E quindi le tematiche e tutto ciò che noi porteremo avanti saranno quelle, saranno le stesse, quelle tematiche legate allo sviluppo sostenibile, al tema della disoccupazione, al tema del reddito minimo, insomma, tutte quelle cose che noi abbiamo cercato di portare avanti in questi anni e che adesso attendono comunque una risposta sempre più immediata. Su quello ci confronteremo anche, come dire, serratamente con la maggioranza, se del caso facendo valere le nostre ragioni. Proseguiamo con la politica perché ieri è stato in Abruzzo il ministro Orlando che ha lanciato la sua campagna per le primarie del PD. Il PD è la cosa che abbiamo costruito in questi dieci anni e impiegherò tutte le mie forze per andare avanti e realizzare quello che avevamo sognato. Così il ministro della giustizia Andrea Orlando ha aperto all'Aquila la propria campagna in vista delle primarie DEM, nelle quali il prossimo 30 aprile si contenderà la segreteria con l'ex premier Matteo Renzi e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Al fianco del ministro l'assessore provinciale Michele Fina, consigliere politico del ministro, ad accogliere gli orlandiani aquilani che da tempo sono critici con la gestione del partito da parte di Renzi, ma che non hanno seguito la strada scissionista. In prima fila il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, gli assessori comunali Pietro Di Stefano ed Emanuella Di Giovambattista, i consiglieri comunali All'Isalem Stefano Palumbo e Antonio Di Nardantonio. Voglio un partito, ha detto Orlando, che non subisca scissioni, che sia in grado di richiamare le persone che sono state alla finestra. E ha aggiunto, non mi preoccupano tanto i singoli leader politici che sono andati via, ma i milioni di italiani che si sono orientati da un'altra parte. E ha concluso Orlando, il rapporto con Renzi è quello di un leale competitore, come sono stato un leale sostenitore di un governo di cui lui era premier. Ed ora ci occupiamo dell'inchiesta che vede coinvolto per riciclaggio l'imprenditore lancianese Antonio Colasante. Quest'oggi si è svolto l'interrogatorio in carcere di Colasante alla presenza del procuratore facente funzione Rosaria Vecchi. Colasante assistito dai difensori Milia e Di Filippo. Vediamo. Sono arrivati di buon'ora e alle 8.30 hanno varcato la soglia del carcere di Lanciano agli avvocati difensori di Antonio Colasante. L'imprenditore è arrestato lunedì scorso per una maxi liquidazione non dovuta, secondo l'accusa, dalla ASL provinciale. Al GIP Massimo Canto alle 9, nell'Istituto di Massima Sicurezza, accompagnato dal PM Rosaria Vecchi, Colasante ha risposto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato circa un'ora. L'uomo con precedenti risalenti all'epoca di mani pulite è a capo della Public Clean, la società che ha l'appalto di Lavanolo nella ASL. È accusato di autoriciclaggio della liquidazione di 2.130.000 euro in più del dovuto per il servizio svolto in un periodo di sei anni, dal 2009 al 2015. I soldi, finiti sul suo conto attraverso passaggi di bonifici transitati in pochi giorni in altre tre società della Holding, sono stati infine utilizzati per l'acquisto di una villa a Porto Cervo, posta sotto sequestro preventivo. All'uscita dal carcere, i difensori Giuliano Milia e Elio Di Filippo hanno riferito poche parole senza fermarsi a parlare con i cronisti. È andata bene, Colasante ha chiarito tutto. La difesa ha chiesto al GIP la revoca della misura cautelare in carcere con la concessione dei domiciliari o di altre misure meno restrittive. Ha chiarito tutto. Ma la cosa di riciclaggio è pesante. Ripeto, ha chiarito tutto. Avete fatto richiesta per la scarcerazione o supporti in qualche altra misura? Si, si sono riservati. Si sono riservati. Per la scarcerazione si sono riservati. Si, si. Grazie. Sarà invece giudicato con il rito abbreviato Fabio Di Lello accusato dell'omicidio volontario premeditato di Italo Delisa, 22enne, anche egli di vasto, ucciso con tre colpi di pistola lo scorso primo febbraio. La Corte di Assise di Lanciano ha respinto la richiesta dei difensori Giovanni Cerelle e Pierpaolo Andreoni sul rito alternativo condizionato alla perizia psichiatrica e al fine di accertare l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto la discussione del rito abbreviato ammesso dalla Corte inizierà lunedì 20 marzo. Al termine dell'udienza i difensori di Di Lello hanno dichiarato ora dobbiamo lottare per ottenere il condizionamento di Di Lello. Presenteremo altri atti al fine di abbattere la premeditazione e dimostrare l'incapacità del nostro assistito. Sarà giudicato con il rito abbreviato Fabio Di Lello, 33 anni, di vasto, accusato di omicidio volontario premeditato di Italo Delisa, 21 anni, anche egli di vasto, ucciso con tre colpi di pistola lo scorso primo febbraio. La Corte di Assise di Lanciano ha respinto la richiesta dei difensori Giovanni Cerelle e Pierpaolo Andreoni sul rito alternativo condizionato a perizia psichiatrica al fine di accertare l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Si riconosce, ha detto il presidente di Corte Marina Valente nel processo celebrato senza riprese video né foto lo stato depressivo dell'imputato ma non l'incapacità di intendere e di volere. Una prima vittoria incassata in aula dal PM Giampiero Di Florio che aveva invitato la Corte a riflettere sulla richiesta dei legali difensori. La difesa, detto a inizio udienza l'avvocato Cerella chiede il rito abbreviato condizionato a perizia psichiatrica incapacità di intendere e di volere dell'imputato o capacità grandemente scemata presentando diversa documentazione in merito. Lo chiede l'imputato? domanda a sua volta il PM Di Florio Cerella risponde sì, c'è la firma dell'imputato allora è lo stesso presidente Valente a rivolgere la domanda a Di Lello lei vuole procedere? e l'imputato ha risposto sì, c'è una contraddizione nei termini contesta il PM se lo stesso imputato è in grado di chiedere la perizia psichiatrica ancora prima la Corte che si è ritirata due volte durante l'udienza aveva deciso di ammettere tutte le parti civili rigettando la richiesta della difesa zii e nonni sono parenti da ritenersi congiunti prossimi ha sentenziato il presidente Valente prossima udienza lunedì 20 marzo per l'inizio della fase dibattimentale durante la quale la difesa presenterà altri atti al fine di abbattere la premeditazione e dimostrare l'incapacità del proprio assistito ritenute importanti a tal fine le perizie degli psichiatri carlesi e cei che lo avevano in cura attraverso il centro di igiene mentale da sette mesi cioè dalla morte della moglie Roberta Smargiassi avvenuta a seguito dell'incidente stradale provocato da Italo De Lisa il nostro dovere di difesa è di aver proposto un giudizio abbreviato che è stato proposto è stato ammesso a questo punto vedremo vedremo che cosa deciderà la Corte Cosa dice il diario clinico? Il diario clinico a nostro avviso aveva elementi sui quali si poteva dedurre la necessità di una perizia psichiatrica la Corte non ha ritenuto questo lo valuteremo anche questo in sé di discussione valuteremo tutto sono tutti elementi che verranno valutati Roberta era incinta? No, non lo so questa cosa non mi risulta non mi risulta Invece a Teramo falso allarme bomba stamani intorno alle 10.30 al Tribunale dove in seguito ad una telefonata anonima sono stati fatti sgomberare i locali sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per le opportune verifiche che hanno dato esito negativo Sempre a Teramo è un caso di meningite batterica di tipo meningococcico quello attualmente in cura all'ospedale Mazzini ad essere ricoverata in condizioni stabili nel reparto di malattie infettive una ragazza di 27 anni attualmente residente a Pietracamela in provincia di Teramo arrivata in ospedale ieri pomeriggio intorno alle 17.30 con febbre e altri sintomi sospetti gli accertamenti effettuati hanno confermato già nella tarda serata di ieri come la ragazza fosse affetta da una forma di meningite batterica con la ASL attualmente in attesa dei risultati della tipizzazione del ceppo la ragazza è stata subito sottoposta alle terapie del caso e come da protocollo è stata subito avviata la relativa profilassi di tutte le persone che erano entrate in contatto con la giovane a distanza di quasi due mesi dalla tragedia prosegue il dissequestro dell'area dell'hotel Rigopiano stamani la nostra troupe di Vestina News è stata proprio sul posto per seguire le operazioni vediamo continuano le operazioni di dissequestro delle automobili e degli oggetti personali delle vittime della valanga che il 18 gennaio scorso ha colpito e distrutto l'hotel Rigopiano le operazioni sono affidate alla compagnia di Penne così come ci dice il luogotenente e vicecomandante della compagnia Maurizio Perilli come vedete siamo nel punto dove la tragedia praticamente si è concretizzata purtroppo alle nostre spalle potete vedere il cono valanga il percorso della valanga assassina che ha fatto con un primo e un secondo salto per poi investire in pieno la struttura del resort Gran Sasso dove purtroppo sono decedute 29 persone come potete vedere già alle vostre spalle nonostante questa leggera nevicata dei giorni scorsi e lo scenario è apocalittico è uno scenario praticamente come un scenario di guerra oggi stiamo ulteriormente riconsegnando le autovetture ai familiari le autovetture delle vittime che erano rimaste qui sepolte dalla neve in parte sono danneggiate stiamo procedendo agli ulteriori atti istituzionali dove oltre al formalismo chiaramente cerchiamo di essere come sempre l'arma fa vicini ai familiari delle vittime stesse concedendo loro anche un minuto di raccoglimento depositando un fiore dopo tanto tempo ad aiutare le operazioni anche Fabio Salsetta che al momento della valanga è riuscito a mettersi in salvo per poi dare l'allarme insieme a Giampiero Parete niente, solo lacrime tutto questo disastro il vederlo oggi è tremendo qui stavamo bene pensavamo di stare un po' al sicuro stavamo forniti di gasolio quindi stavamo tutti belli caldi dentro non si pensava a un inferno del genere difficile perché l'unico punto di lavoro era questo in Farino non c'è più niente oltre a questo solo dei piccoli ristoranti si deve creare qualcosa di nuovo giù in paese ovviamente però si deve fare qualcosa presente anche la signora Antonella mamma di Alessandro Riccetti che lavorava alla reception dell'hotel Rigopiano sì uno venendo qua si rende conto della gravità della cosa e anzi era impossibile penso trovare sono state anche troppe forse le persone trovate vive perché nel disastro che c'era voglio dire i soccorsi sono stati non so come hanno fatto a tirare fuori persone da lì dentro da quel macello lì e ci credo e ho accettato questa cosa e devo andare avanti per gli altri figli perché comunque la vita va avanti il perché non lo sappiamo il Correcom Abruzzo è stato e resta in prima linea nell'offrire assistenza ai cittadini che hanno subito disservizi legati alle compagnie telefoniche durante l'emergenza maltempo dello scorso gennaio il presidente regionale Filippo Lucci si è detto soddisfatto della risposta offerta sollecitando i cittadini e i sindaci a rivolgersi al Correcom per la composizione delle controversie Correcom è stato attivo per quanto riguarda i disservizi dovuti al maltempo l'ondata dei maltempo di gennaio certo il 100% delle richieste che sono venute al Correcom sono state immediatamente affrontate e sono state riattivate tutte le linee telefoniche che erano collegate ai problemi del maltempo entro le 48 ore così come la legge dice ovviamente molte amministrazioni non hanno usufruito di questo servizio molti cittadini e quindi noi invitiamo sempre a rivolgersi al Correcom per poter usufruire di questo servizio ma vogliamo anche dire che gli indennizi che stiamo producendo attraverso le conciliazioni di questi giorni proprio per i danni del maltempo stanno venendo alcune compagnie telefoniche molto disponibili e voglio ricordare Vodafone e Fastweb ma con Team la vecchia Telecom diciamo che in realtà fa molta resistenza a riconoscere i danni e questo è veramente spiacevole soprattutto per quello che ha subito l'Abruzzo e ogni singola famiglia ogni singolo cittadino rispetto agli servizi che non sono giustificabili dal maltempo sono anche colpa di chi non ha saputo gestire l'emergenza e soprattutto essere pronti nel momento delle difficoltà Ecco l'Abruzzo è stato investito da un'ondata eccezionale di maltempo non solo di servizi nelle telecomunicazioni ma anche nell'energia elettrica questi probabilmente anche molto più gravi Assolutamente quello è un problema centrale un problema a cui l'Enel dovrà rispondere sicuramente noi ovviamente non abbiamo una competenza diretta in questo senso e comprendiamo anche le difficoltà delle compagnie telefoniche quando non c'è la luce poi è difficile dare un servizio questo non vuol dire che nel momento in cui il cittadino però si siede al core parlando con la compagnia per produrre un danno e ottenere un risultato non si può essere rigidi bisogna essere molto disponibili perché l'utente il cittadino ha già subito molto nella fase dell'emergenza Torniamo nell'Aquilano riunione dei sindaci del cratere al centro dell'attenzione le difficoltà che stanno incontrando gli uffici territoriali per la ricostruzione Per la mancanza cronica di personale negli uffici territoriali per la ricostruzione del cratere sismico abruzzese del 2009 sono quasi mille le pratiche arretrate non esaminate per circa 347 milioni di euro che potevano diventare cantieri nel 2016 e che invece giacciono inutilizzati Il dato molto preoccupante è emerso nel corso della riunione plenaria di tutte 56 le fasce tricolori che si è svolta nella sede dell'ufficio speciale di Fossa Da qui la decisione di moltiplicare le pressioni nei confronti della struttura speciale di missione del governo per sbloccare almeno i fondi già previsti ma non ancora in cassa ovvero i 500 mila euro mancanti per pagare di stipendi degli addetti degli uffici sismici dei comuni fuori cratere che di conseguenza sono oggi chiusi a cui si aggiungono 2 milioni di euro per le spese di funzionamento di tutti gli uffici e altri 2 milioni di euro per compensare i mancati incassi fiscali e tributari dei comuni terremotati che non hanno più risorse per fare anticipazioni La priorità a questo punto è dotare in maniera definitiva e in maniera stabile gli uffici della ricostruzione di personale in maniera tale che ogni volta non si debba aspettare ogni fine anno per capire se si è finanziati se non si è finanziati se c'è la norma da una parte se poi c'è la cassa da un'altra parte insomma c'è un po' di confusione in questo momento che dovremmo sgombrare e fare in modo che ci siano certezze in modo tale che i dipendenti ma soprattutto gli UTR tutta la struttura di riferimento della governance della ricostruzione sia nel cratere che fuori cratere abbiano le gambe per camminare Il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha sottoscritto un protocollo d'intesa stamani presso gli uffici della procura dell'Aquila con il procuratore generale Pietro Mennini e il presidente della corte d'appello Ida Franca Bandera che consentirà a 200 lavoratori cosiddetti precari della giustizia di operare presso gli uffici giudiziari e rafforzare le competenze già acquisite potenziando così gli organici Qui tre risultati noi abbiamo raggiunto uno di aiutare il pianeta giustizia a superare il cronico problema della mancanza di risorse umane riferita a questa mancanza le loro piante organiche e questo significa poi lentezza nei procedimenti di accertamento della verità e lo dice diciamo uno che molte volte è anche utente di questo pianeta giustizia avere risorse umane significa anche poter scommettere sulla velocità delle procedure secondo utilizzare le risorse dell'FSE davvero rispetto a settori della vita pubblica e della vita sociale dove ci sono diritti fondamentali come il diritto della giustizia e alla giustizia terzo fare in modo che una vicenda di questo tipo che si trascina da anni sul fronte di quelle forze lavoro espulse dal circuito produttivo negli anni lontani passati finalmente conseguendo la compiutezza formativa possono poi aspirare ad un effettivo rapporto di lavoro io per questo continuerò a collaborare con quelle persone quei ragazzi quelle donne quei sofferenti della conclusione del precedente rapporto di lavoro in maniera tale che possano riavere la possibilità di attivare un percorso di vita e un progetto di vita tornano a manifestare i pescatori di vongole aderenti al cogevo che sono fermi dal 31 di agosto e che vivono solo della cassa integrazione vogliono risposte dalla regione in merito alle politiche comunitarie che li penalizzano rispetto alla questione dell'area marina protetta del cerrano chiedono poi i fondi che assicurino la loro sopravvivenza fermi da fine agosto i pescatori di vongole aderenti al cogevo chiedono alla regione di poter tornare in mare e di poter pescare in condizioni idonee dopo le restrizioni apportate in abruzzo al settore questa mattina hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti alla sede dell'assessorato regionale alle politiche agricole alla pesca per chiedere risposte alla regione in merito ai fondi da destinare ad un settore che sta morendo in abruzzo sono 84 le vongolare che ricadono nel tratto di mare fra il terramano e il pescarese gli amici pescatori per pagare le tasse sono italiani per versare i contributi sono italiani per tutti i diritti sono italiani poi quando si tratta dei benefici come diceva giustamente l'amico per poter lavorare mettiamo i vingoli abbiamo fatto il parco marino nel cerrano bene d'accordo mi si spiega da parte della regione da chi perché con il parco marino avevano fatto il triangolo Silvi Roseto Pineto i vongolari possono andare quelli di Giulianova Albadriarico Tortoreto il prodotto è piccolo non c'è prodotto poi dobbiamo sottostare le leggi comunitarie nuove che ci impongono altri sì ma ci impongono di montare a bordo uno strumento di identificazione in mare chiediamo che la regione ci dia una mano che ci dia delle sovvenzioni non so la soluzione la devono trovare loro la deve trovare il signore del parco la deve trovare chi ci ha ci ha atterrato sono 1534 le imprese che attualmente operano nel settore della moda in provincia di Teramo numero importante che fa intravedere nuove strategie di crescita soprattutto in Val Vibrata se ne parlerà in un convegno organizzato dal consorzio Atea e dalla camera di commercio di Teramo che si terrà a Villa Rosa di Martinsicuro il prossimo 13 marzo alle 16.30 il servizio di Tania Bonici Castelli Restart Abruzzo Val Vibrata uno slogan che significa restiamo ad investire e produrre nella nostra terra la Val Vibrata da area di crisi sta diventando un'opportunità di rilancio economico per diversi settori ma soprattutto per il sistema moda se ne parlerà in un convegno a Villa Rosa organizzato dal consorzio Atea eccellenze artigiane e dalla camera di commercio di Teramo che hanno risposto in tanti e quindi c'è un grande interesse su quella vallata la Val Vibrata l'area di crisi e non solo perché credo lì ripartirà tutto il territorio quindi il contesto anche della nostra iniziativa dall'iniziativa che farà il consorzio Atea è appunto per rivalorizzare un tessuto imprenditoriale nel settore della moda che ha dato in passato lustro a questo territorio e speriamo che torni a essere una punta di diamante di eccellenza delle nostre imprese e della nostra provincia nella costituzione del nostro consorzio ci siamo posti cinque punti all'ordine del giorno che dovranno essere un po' le linee guida dello svolgimento di questo rientro questo rilancio del sistema moda dalla internazionalizzazione che è assolutamente c'è bisogno per le aziende strutturate in un certo modo internet e-commerce online è un altro tema nuovo terzo punto è un punto interessantissimo perché abbiamo deciso di cominciare a vendere anche la nostra capacità tecnica mi spiego meglio un albo del terzismo quarto punto una scuola quinto punto come dire capire che la collezione nuova è un'innovazione intanto il presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino rende noti gli ultimi dati di Invitalia che ha ricevuto 347 manifestazioni di interesse da parte di imprenditori pronti ad investire in Val Vibrata oltre 700 milioni di euro una boccata di ossigeno per l'economia teramana che significa tradotta in termini occupazionali 3.700 nuovi posti di lavoro nel fine settimana le piazze di Pescara all'Aquila Vasto e San Salvo ospiteranno i gazebo di Forza Italia nell'ambito del Security Days Italia più sicura per parlare con i cittadini delle problematiche riguardanti la sicurezza del territorio Forza Italia ha fissato in 5 punti il programma per un'Italia più sicura nuovi accordi internazionali con la Libia e gli altri paesi dell'altra sponda del Mediterraneo per bloccare le partenze degli immigrati maggiore utilizzo della marina militare e della guardia costiera contro scafisti e trafficanti di uomini più poliziotti e carabinieri di quartiere militari a presidio delle periferie maggiori poteri ai sindaci e alla polizia locale ed infine istituzione di un albo delle moschee e degli imam autorizzati a predicare in Italia oltre alla revoca della cittadinanza ai fiancheggiatori del terrorismo islamista nel weekend i rappresentanti azzurri scenderanno in piazza a Pescara l'Aquila Vasto e San Salvo per incontrare i cittadini nell'ambito dei security days diciamo che fra le priorità che il nostro movimento politico appunto Forza Italia ha ritenuto di mettere in campo c'è quello della sicurezza della sicurezza nelle nostre città la sicurezza dei cittadini che è uno dei temi sicuramente per i quali la gente è particolarmente sensibile abbiamo organizzato dei gazebo nei quali i nostri sostenitori i nostri volontari spiegheranno ai cittadini che passeranno consegneranno un volantino e spiegheranno quali sono le ragioni di questa iniziativa l'associazione Pescara mi piace torna a sollecitare l'amministrazione sui cantieri dei lavori pubblici su Viale Primovere al confine con Francavilla è fermo il cantiere per i lavori antiallagamento l'associazione chiede tempi certi per non pregiudicare l'attività turistica sulla riviera sud siamo all'incrocio fra Via Celommi e Viale Primovere ai confini tra Francavilla e Pescara c'è un cantiere per il piano antiallagamenti che è fermo quali sono le motivazioni perché questo cantiere non procede è aperto dalla fine di novembre è quello che ci vediamo anche noi un cantiere fermo come questa amministrazione simboleggia l'incapacità di un'amministrazione che pur avendo ereditati lavori come questo per il piano antiallagamento non è capace neppure di portarli a termine oggi vediamo un cantiere fermo un problema irrisolto quello dell'inquinamento e un problema nuovo creato quello del traffico in una zona assolutamente di prestigio come quello della riviera ci preoccupiamo fortemente perché il problema dell'allagamento deve essere risolto più presto anzi deve essere già risolto con un cantiere ormai scaduto in termini di ordinanze ma soprattutto creare un problema in più quello del traffico della congestione in una zona che tra poco diventerà zona balneare le state ormai alle porte e questa amministrazione sembra come al solito non dare risposte a questo punto si riuscirà a chiudere il cantiere per l'apertura della stagione balneare è quello che ci diamo anche noi perché è un cantiere che deve essere già chiuso invece non vediamo neanche operare al lavoro la preoccupazione è molto forte noi rivolgiamo questa domanda all'amministrazione che purtroppo come al solito non risponde apriamo ora la pagina dello sport e parliamo di Pescara il presidente Daniele Sebastiani ha fatto il punto della situazione sulla questione societaria la trattativa con Danilo Iannascori a due giorni dal match interno con l'Udinese la questione societaria resta distretta attualità in casa Pescara presentata nella tarda serata di ieri dall'ex amministratore delegato Biancazzurro e attuale socio di minoranza Danilo Iannascori un'offerta per rilevare il 70% delle quote azionarie del Pescara facenti capo al presidente Daniele Sebastiani ora l'offerta top secret dovrà essere valutata dal massimo dirigente Biancazzurro proposta che qualora fosse ritenuta congrua potrebbe aprire il fronte della due diligence che permetterebbe l'analisi del bilancio e in generale del patrimonio della società prima dell'atto del passaggio definitivo di quote Sebastiani proprio ieri si era espresso sulla vicenda usando però parole molto chiare ma se l'offerta non sarà quella che mi farà piacere ricevere come sia personalmente e come rappresentante delle altre quote la rimanderemo al mittente e andremo avanti come stiamo facendo fino adesso siccome le quote sono le mie quindi avrò anche il diritto di decidere se voglio vendere a che prezzo voglio vendere dopodiché nel momento in cui si dovesse aprire una due diligence è chiaro che la due diligence non serve per dire ti butto lì un'offerta di 10 e poi dopo la due diligence le do due perché si torna a punto a capo perché io voglio quello che voglio io non quello che dice qualcun altro siccome la società le quote sono le mie deciderò pure io a chi vendere e come vendere Sebastiani smorza poi i toni sulla querelle tra il procuratore Alessandro Moggi e Zeman tensioni che non si ripercuoteranno sulle scelte di mercato noi prendiamo i giocatori non perché ce li ha Moggi o ce ne ha non lo so Raiola o ce ne ha prendiamo i giocatori che rispondono a certe caratteristiche se poi questi giocatori li dovesse avere Moggi li prenderemo ugualmente se non ce li dovesse avere non li prenderemo Zeman è una persona talmente intelligente avanti con la testa che pensa al bene delle squadre che allena non alle persone ed ora la Lega Pro nel pomeriggio ha parlato il tecnico del Teramo Guido Ugolotti i biancorossi preparano la delicata trasferta di Bergamo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia domenica alle 16.30 il match contro l'Albino Leffe è indubbio che noi tutte le partite le prepariamo per fare risultato abbiamo lavorato bene sono contento abbiamo qualche qualche acciacco però questo non mi preoccupa nel senso che quelli che ho a disposizione sono motivati sappiamo che è una partita in meno di conseguenza dobbiamo darci sotto perché dobbiamo cercare di andare a fare un risultato sapendo che di fronte troveremo una squadra che ha delle ambizioni diverse dalle nostre se andiamo a vedere cominciano a mancare poche partite alla fine ogni partita diventa una finale tutte le partite sono determinanti anche quelle che abbiamo già giocato è normale che più vai avanti più i punti pesano perché le altre ho visto che continuano qualche d'una a fare risultato di conseguenza non dobbiamo perdere terreno ogni partita per noi deve essere l'ultima partita questa settimana abbiamo provato anche a giocare con un sistema di gioco visto che abbiamo qualche defezione dietro di conseguenza dovremmo essere pronti sia a giocare in una determinata maniera che in un'altra no non è non è una questione secondo me è una questione di mentalità piano piano stiamo crescendo anche se gli ultimi risultati non sono risultati positivi però piano piano la squadra secondo il mio punto di vista sta crescendo io mi aspetto sempre dei miglioramenti poi il sistema di gioco lo fa la volontà dei giocatori ma imparato oggi aveva un problema al tallone stiamo valutando perché ieri ha interrotto la partita oggi non si è allenato stiamo cercando di fare le cure perché avendo anche caidi squalificate è normale che dietro non siamo numericamente molti di conseguenza dobbiamo un attimino recuperare un po' tutti vediamo domani mattina la decisione la prenderemo domani mattina Petrella non si è allenato neanche oggi ancora fastidio di conseguenza penso che non sarà della partita Carrara ha grandi qualità è normale che gioca in un ruolo particolare perché io all'inizio l'ho provato dietro diciamo nella prima partita dietro la punta però ultimamente poi guardando e analizzando un pochettino il suo comportamento è un giocatore che è molto bravo tecnicamente è un giocatore che ci può dare una mano in certi momenti quando probabilmente dobbiamo aumentare un pochettino la qualità in determinate zone del campo sicuramente io sono soddisfatto chi non ha giocato fino adesso mi auguro che si faccia trovare pronto ma gli avversari sono una buona squadra io ho guardato diverse partite andando indietro addirittura fino alla partita che hanno giocato con il Padova perché per vedere un pochettino come si sono comportati contro tutti i moduli di gioco che le varie squadre di questo giro ne affrontano è una squadra che aggredisce è una squadra che gioca in un campo molto grande dove ci sono ampi spazi e dove giocare se uno ha la tranquillità di poter giocare c'è la possibilità di giocare però sicuramente è una squadra che ha delle buone individualità e finisce qui la seconda edizione del TG6 la prossima alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata Grazie a tutti